amici di canale caccia.tv siamo a dva 2017 sono con giulio bernardelli e siamo all'interno del rinnovato stand dell'azienda qui a dva giulio vedo che hai in mano un gioiellino di casa bernardelli per cui aspetto solo che ce lo illustri innanzitutto buongiorno buongiorno a tutti siamo qui a dva 2017 presentiamo questo nuovo prodotto è un sovrapposto tipo boss che si chiama saturno in questo allestimento con questa croce lunga tipo boss il sovrapposto presenta i ramponi tipo boss diciamo con la ramponatura originale con i giri la batteria è fissa è una batteria box lock e possiamo anche produrlo in allestimento con acciarini quindi holland holland e diciamo qui è un attimo con l'allestimento top di gamma beh vedo che ha delle incisioni floreali fantastiche per cui questo è un gioiello che si vede non solo dall'incisione ma anche dalla qualità del grado del legno che presentate è veramente un gioiello a vederlo guarda esatto allora il legno è un grado molto alto tutte le tutti gli aspetti del fucile possono essere personalizzati dal cliente perché noi facciamo prodotti totalmente custom quindi ripetiamolo o quando vi confrontate con bernardelli sappiate che potete praticamente anche andarli a trovare in azienda provare l'arma a mettere le misure adeguate e andare a customizzare l'arma in tutti i dettagli possibili quindi non solamente nella scelta delle incisioni ma chiaramente la lunghezza la piega e tutto quello che è necessario praticamente per adattarlo al vostro stile di caccia un'altra cosa molto interessante di questo sovrapposto è il fatto che la canna è totalmente realizzata su specifica dal cliente quindi possiamo andare a decidere l'interno tutte le quote il peso e all'interno di questi tubi che sono in acciaio lamech 42 nickel cromo molibdeno abbiamo un profilo interno molto particolare con dei coni lunghi che però riducono il rinculo ma non vanno ad abbattere quella che è la potenza della fucilata sul bersaglio incidono anche sulla rosata queste aiutano anche a distribuire ottimale mente la rosata nella parte periferica una rosata uniforme nella parte periferica dove normalmente invece se andiamo a fare delle prove balistiche si trovano pochi pallini nella rosata esatto inoltre le canne sono saldata stagno e questo ci aiuta ad avere una fucilata molto più morbida di una saldatura tradizionale a lega bene e per quanto riguarda quindi anche la customizzazione delle canne la lunghezza la può scegliere naturalmente il cliente a secondo il tipo di caccia che pratica abbiamo altre specifiche su quest'arma perché ne abbiamo detto veramente tante ma vedo che allora non finiscono un'altra cosa molto interessante sono i guida asta tipo boss che ci permettono di avere una linea complessiva del fucile molto più elegante in quanto la stina arriva sotto la metà del tubo superiore infatti se guardiamo il fucile un attimino anche da lontano vediamo che la linea della stina è molto più bassa rispetto al classico sovrapposto inoltre abbiamo uno sgancio della stina con questo bottone quindi molto semplice molto semplice che però rimane un attimino mascherato dal legno con questo profilo arrotondamento abbiamo cercato di curare la linea al massimo per avere un'arma molto armoniosa partelo dire giulio ci siete assolutamente riusciti ma la mia attenzione era caduta su quest'arma ancora in bianco ma credo che sia un vero e proprio prototipo addirittura quindi è una chicca per i nostri amici che cosa state combinando allora questo un prototipo di una doppietta express con batteria estraibile come potete vedere qui la batteria è una batteria anson montata appunto sulla bascula questa questa batteria può essere diciamo smontata per andare a fare una manutenzione classica dell'arma quindi andare a controllare che tutto sia in ordine la bascula è come dimensioni è paragonabile a un 410 logicamente tutta ricavata dal pieno in acciaio e la cosa particolare è appunto abbiamo cercato di fare questo un calibro 30 06 di fare un'arma molto rastremata rispetto al calibro di solito abbiamo dei casi su questi calibri quindi sul 30 06 si usano bascule paragonabili a un calibro 28 come interassi come misure invece noi usando materiali molto buoni dal punto di dalle caratteristiche meccaniche eccellenti siamo riusciti a ridurre tutte quelle che sono le misure per un per un experts di questo tipo le canne sono in acciaio lamec demiblock logicamente e anche qui massima performance esatto e anche qui tutte le caratteristiche sono personalizzabili dal cliente bene una bella chicca per i nostri amici cacciatori e vi ricordo un'ultima cosa tra poco sarà disponibile sul nuovo sito cataloghi caccia punto it anche il catalogo della giulio bernardelli e in maniera tale che amici cacciatori potrete scaricarlo fare il download che vorrete e visualizzare con comodo tutta l'ampia gamma offerta da giulio naturalmente www bernardelli punto it invece è il sito punto giulio bernardelli giulio bernardelli pardon punto it e in maniera tale che potrete anche andare a visionare tutti quanti prodotti e la gamma che offre l'azienda bene giulio io ti ringrazio per il tempo che c'è dedicato e non faccio altro che augurarti un in bocca al lupo ma sono sicuro che non ce n'è bisogno perché come ogni anno è un bel successo è un bel complimenti anche per l'allestimento del nostro stand molto luminoso che da in qualche modo amplifica la bellezza di queste armi che ci rendono orgogliosi nel mondo dal punto di vista della produzione non siamo veramente secondi a nessuno dobbiamo dirlo dato che siamo in terra tedesca ogni tanto no spingere sulla nazionalità del tasso e sulla qualità del made in italy non fa male grazie è tutto dallo stand della bernardelli amici di canale caccia adesso passeremo ad altre interviste